Ginoza ha voluto celebrare la bandiera blu che da 23 anni sventola lungo la propria costa certificandone l'alta qualità. Il drappo Fè è stato consegnato direttamente via mare in maniera simbolica ai concessionari dei Lidi. Un atto anche di ringraziamento, incoraggiamento e buon auspicio per quegli imprenditori che tanto si stanno dando da fare da parte del sindaco Vito Parisi, il vice Domenico Gigante, l'assessore Nunzio Ricciardi e il responsabile dell'ufficio ambiente. Lido per Lido a consegnare in maniera simbolica una bandiera blu che è un po' un simbolo della marina. In un momento, in una stagione particolare, quella che tutti conosciamo post-pandemica, ma che devo dire dai dati almeno provvisori o parziali che ci giungono, risulta essere comunque una buona stagione, dato che c'è comunque stato un incremento del turismo che riguarda le residenze. Quindi c'è stata una grossa presenza, l'augurio è quello che negli anni si migliori e ci si strutturi sempre di più e quindi era un messaggio anche di augurio nei confronti dei concessionari.